Ciao ragazzi, sono Falconeiro, oggi sono qua con un nuovo scopriamo per scoprire insieme a voi il gioco di The Expanse, targato Telltale Allora, una premessa doverosa non è necessario conoscere la serie televisiva per goderselo anche perché se così fosse io non ci potrei giocare perché non l'ho mai visto The Expanse come serie è una cosa che devo recuperare da anni, ma non l'ho mai recuperato dunque, mi godrò questo rito di iniziazione nel mondo di The Expanse attraverso il gioco Telltale è in italiano nei test ringraziando il cielo non nel parlato, ma poco importa gioco, targato Telltale, quindi scelte e conseguenze vediamo di che tipo, iniziamo a dare un'occhiata speriamo bene, fantascienza, per chi non sapesse voi di che stiamo parlando storia di profonda fantascienza spero che sia all'altezza delle migliori aspettative siamo su Xbox, grazie a una chia offerta dal team di sviluppo che ringrazio e andiamo manco in iniziato, già ho deluso qualcuno e che è? intanto c'è solamente il primo episodio per ora listen, come on listen to me, dammit listen to me pensavo ci avrebbero fatto scegliere e invece no o forse ci faranno scegliere dopo o forse ci porterà il pre di quel momento 8 ore dopo no cannato completamente mi sa che erano 8 ore prima a Alla fine del giorno, tutti i nostri f***i f***i, ma principalmente tu e io. È un'altra scuola. Non è solo un scuola. La U.N.N. Urshinabi. L'escriviti al canale meno di un week ago. Non c'è una distrazione. Non ci sono un'altra scuola. L'escriviti al canale non è una iscriviti a conforme. Non hai uno di questi. Un'altra scuola. C'è un'altra scuola. Se è un'altra scuola che ancora da queste. Quindi tu sei ancora un'altra scuola. Un'altra scuola con la Bauta di Anderson . Ma... ... l'allate è l'allate. L'allate è l'allate. Ma... ... perché non ti prendi? La bonti Chiunque potrebbe fare incazzare Doze Non sono tua proprietà Ma io non conosco Sto Doze e quindi Sto Doze E bevi il suo scotch Mi manda i pazzi Non sapere se è effettivamente 8 ore dopo 8 ore prima Ce l'ha scritto 8 ore dopo Ma è surreale che sia 8 ore dopo Sarà 8 ore prima Ma non lo so E quindi vivo con sto tarlo in testa Vabbè Potranno aver sbagliato una cosa così grossa Cioè Before e after Sono due parole molto diverse Allora Vabbè Tant'anno avanti Lo capiremo Tant'anno avanti Tant'anno avanti Tant'anno avanti Vabbè 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 I'm busy We're nearly there The debris field is massive It'll take me a minute to navigate Somebody blew that ship To hell and back I should check the command console For more information on the oceanmaybe As the XO it's my job I keep a log on the ship And on our scavenger Le Nazioni Unite manderanno un'altra nave per indagare sulla perdita di un elemento della loro flotta ma potrebbero volerci settimane Cox è troppo sicuro di sé, come sempre, ma potrebbero esserci oggetti di valore a bordo Sì, è il momento di trovare il resto della squadra Arlen ha detto che ha lasciato tutto questo, era tre giorni fa? Lazy jetman L'atmosfera mi piace, i modelli no, sono sincero Virgil Virgil Exodrummer Usualmente i medici non conoscono abbastanza di aggiungere il dispensatore di morfino Beh, ho fatto un corso in preparazione di autodocca durante la mia residenza Utilizzato per il lavoro in fuori del sistema medico Mi ha dato le letture abnormali dopo la serie Ma finalmente vedo perché I cristalli laser sono brutto occludi Eh, si può sostituire? Si può sostituire? Noi possiamo sostituire? Noi possiamo sostituire? Noi possiamo, e dovremmo Normalmente non potremmo Io non potremmo Io potremmo sempre potremmo I potremmo le persone I potremmo We have a new target We have a new target What is it this time? El Dorado? The Fountain of Youth? Let me guess The falcon horde of Venus? The UNN Ursh and Arby Cap believes there's something valuable on board Something special Do we want to invite that kind of attention? We'll be fine In and out No games I'll monitor any data you send back And I'll be here to patch anyone up Should have come to that Slurge Ignoro l'utilità dei cristalli in questo contesto Ma immagino lo scoprirò andando avanti Diciamo che non avere conoscenza pregressa di The Expanse come universo è un po' problematico a volte però Mi auguro non ci precluda Quali vengono scuole questa volta? Non ti senti la notazione? Dovete un acqua di calcompagnia? Si, lasciati, ok? Ehm, piantatela. Ehm, bisogna restare il lavoro. Ehm, bisogna restare un po' le gerarchie qua, eh? Ehm, bisogna restare un po' le gerarchie qua. Ehm, bisogna restare un po' le gerarchie qua. Non siamo molto bene a farci degli amici per ora, ma confido che le cose cambieranno, spero. Ehm... Mi sfugge un po' di contesto, ma penso sia voluto. In questo momento. Ok, per adesso ritmi piuttosto gradevoli, non mi sto annullando, che è una cosa buona. Ehm... 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 Un po' di schiavolo. Vabbè. Ehm... Ehm... Un po' di schiavolo. Ehm... Un po' di schiavolo. Un po' di schiavolo. Una schiavolo. È una腿 che bija da volante, mille e lungo. even if they're the eyes of an inner who doesn't know her ass from her oxygen valve you mean an inner who piledrived your ass into a ceiling right let's head out just remember to woohoo as i was saying remember to keep your weight back when you land still not bad for an inner who's barely been in the belt for a month it reminds me when rayon and i were learning to spacewalk one time he crashed right into the hole and shit his back suit shut it airlock is open exo good let's see what we have in here I would like to see you I would like to see you di avere questa necessità che non sarà mai soddisfatta comunque mi piacerebbe un feedback da parte di chi la serie la conosce tanto, spero che tra di voi ci sia qualcuno di super appassionato che possa dare un parere sulla qualità di questa sceneggiatura per adesso e dei personaggi del contesto io posso dare la prospettiva di chi non conosce una fava però mi piacerebbe anche un parere diverso sono caricamenti belli marcati almeno su console poi non so se su pc sia diverso ma su serie x è così fucking table scraps keep your head down it's okay non si puke in your souk eh che si won't choke to death on your own sick quasi tutti uguali enough whoever put out this welcome gift for us is long gone and they left behind a big ass ship that must have some valuables still on it so get scavenging you all have your orders hurry up and do your job so we can get back home all'inizio 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 allora le porte sembrano tutte sì sì le porte e le teste sembrano tutte no in realtà sembravano tutte della stessa faccia ma in realtà no è particolare questo questo modo di esplorare chiaro ehhhh non mi è molto chiaro come poter passare aaaah ditelo che mi posso staccare maledetti aaaah a fabricator of some kind maybe for material printing do we yes gimme gimme ok time to scavenge drummer looks like the officer's section is still intact go check it out oh no you know the military the brass always hoards the best shit let's hope so there you go clean palladium in this recycler good pull drummer unn officers always keep a backup water recycler for themselves you were a unn officer do you have a backup recycler for yourself course not I drink the same cloudy sludge as the rest of you mm-hmm this map would be helpful if all the pieces were still together no such luck I did run a phase array scan everything matched the lidar except for one gap in the captain's quarters I'll check it out when I get in there not a lot of particulates in the air filter Virgil how long do you think the bodies have been like this a couple of days that's my assumption after analyzing the footage of the heads and the remnants of the precipitating battle what can you tell me about the heads medically speaking from the uniformity of the incisions it seems clear they were done post-mortem very difficult to be precise if the victim is fighting back last time Khan smoked a cigar on the ship Maya had to spend half the day cleaning out the air filter allora skinnies bigoted asshole he still didn't deserve to die like this midisp microwave energy gun not a bad choice for persuading someone to open a door so about that it's a fingerprint lock you're going to need to find the right hand an officer the fucker good news the log show that there was one out in the crew mess hall second corporal Horowitz all right might be difficult to get his body back to the door though don't need all of them oh god eh qua la mano e si sove il problema Arlen and Rayan's experience hauling minerals on Vesta has been a big help even when they annoy the hell out of me here is a particular project as a project super desolante super angosciante and then they're going to be Europa's Bane anyone part of it it's one of Toussaint Zapata's ships Ah, fuck Shoulda known Who is that? Latest pirate flavor of the month Led a mining strike on Europa Stole a few ships Now self-employed as a full-time murdering psychopath UNN has been giving her a wide berth If she wanted to take out this ship, it means she had a good reason Or she's just a murdering psychopath Got it, thanks Maya, I'm in the mess hall Time to find an officer I've linked the personnel records to your terminal Try scanning the bodies and see if you get a match Allora Looks like the crew tried to mount a defense here For all the good it did Those poor people This is awful This is awful Have you ever seen anything like it? No Not even on series? Not even on series Ha shang Check the shoulders UNN officers have those fancy bars I know pirates are vicious, but this is... You hear stories about people who spend too long off station Go Bic Pagal Bic Pagal My belt is... It means really fucking crazy It means really fucking crazy It means really fucking crazy This much violence seems pretty big pagal to me Can you hurry up? Working on it. This was a massacre. No other word for it. The sooner we get out of here, the better. Have you checked the ceiling? If his mag boots were off, he might have drifted. That's the one. Poor Arthur. Sorry about this. What a hell. What a hell. Fuck, fuck, fuck! Ryan, what's happening? Ah, an accident. My leg. Oh, it's the... Volota, you're the accident. Keep holding, I'll be right there. Drummer, whatever mess he's got himself into, make sure the containment fault is secure. We can't afford to lose it. Captain, Ryan's back suit is... Not now! Drummer, get your ass over there. On my way. Some nautical glue. Be his hands. Okay. I'm not very patient. Oh, my... It's like... It's really important before... It's very young. Well, that's my skin. Oh, you're... Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. No! Oh, no. Mi legge Samalo, drummer Samalo Hold still, we'll see what we can do What happened? Unexploded charge, I think Pirates must have let it be hunt Pa Chang, you didn't scan first Drummer, his suit is punctured and losing pressure You need to release the vault and patch him now Or he could die Arca miseria No, allora, il discorso è cassaforte Se fossero cose preziose Direi Chi se ne frega Ma se c'ha l'ossigeno ne va della sopravvivenza del gruppo Da quanto mi è parso di capire E quindi perdo la gamba Ma come fai però, Polacce? No, perdi la cassa, non si può Dai, non si può Se c'è la possibilità, c'è te la la mano E recupera qualcosa Oh, hold on What are you doing? Oh, 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 oh Oh, oh, oh You're welcome I'm signaling Virgil to come check on him But vitals look stable You did the right thing, Kamina Bullshit See if you feel that way in a few weeks When we're running out of supplies He's right, Boratna You're a disgrace to build a loader It's done Dai, non si può Su Poi ce si pensa Ma non puoi Su Ma come Ma io non ce la faccio A far partire la gamba di uno Bene Ragazzi Direi che dopo questa scelta estremamente intensa Ci potremmo fermare qua Per adesso Fatemi sapere che bisogna vi ha fatto Per ora Quello che avete visto Se vorreste vedere di più È un gioco che volendo Si potrebbe portare avanti in live Questo qui sarebbe perfetto Effettivamente Per dire live Fatemi sapere Io sono a completa disposizione Non andrò avanti Anche perché il tempo Non ce l'ho a questi giorni Per andare avanti off camera Quindi resto in attesa Di vostre indicazioni E noi ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi E noi ci vediamo alla prossima